Voglio ringraziare il gruppo My Idea Nord-Est per tutto l'aiuto che ci è stato dato. Ci hanno sempre contattato per chiederci informazioni, per tenere alta la voce di Giovanni. Per cui il mio grazie con tutto il cuore va a loro. Erika è commossa, non avrebbe mai immaginato così tanta partecipazione della gente. Arrivare in così poco tempo all'obiettivo dei 400.000 euro? A dirla tutta, nemmeno noi ci aspettavamo una tale dimostrazione di solidarietà nei confronti di questo bimbo. Di quello che è diventato il nostro piccolo Gio, il nipotino di tutti noi veneti. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono private di un caffè, dal caffè a una pizza, a qualsiasi altra rinuncia abbiano fatto. Perché tutti voi telespettatori del gruppo My Idea Nord-Est avete accolto il nostro invito. La storia di questo bimbo di poco più di due anni affetto da Amy Melia Tibiale. Una rara malformazione congenita che porta all'assenza della tibia in una gamba, che necessita di una costosissima operazione da fare solo in Florida, ha toccato i cuori di tante, tantissime persone. Arrivando nei palazzi veneziani, l'ultima grande novità, la regione Veneto, che ha reso ufficiale la destinazione dei 50.000 euro per la causa di Giovanni. La meta è stata raggiunta quindi. Media Nord-Est chiude la raccolta fondi per il piccolo Gio, ma non si conclude questa corsa di solidarietà per dare il meglio a tanti altri bambini, anche assieme a mamma Erika. Io ci tenevo a precisare il fatto che tutto quello che sarà di più verrà utilizzato per sostenere la fondazione di Media Nord-Est, che aiuterà i bambini in difficoltà. In queste patologie che appunto qua in Italia non trovano aiuto, non trovano sostegno e si trovano da soli, come ci siamo trovati noi da soli all'inizio. Ora questa famiglia di Piazzola non è più sola, anzi, il senso di comunità, di fratellanza, di unione si è esplicato in tutta la sua grandezza in questa vicenda, ed è solo l'inizio. Un inizio che comincia con un cucciolo che ci mostra il suo sguardo da supereroe e... Mandi un bacio a tutti adesso, manda un bacio a tutti con la manina. Hai detto grazie a tutti. Grazie.